Quando sono entrato nell'Ital Cedar io avevo 22 anni circa, appunto dell'87 e per me è stato il primo lavoro, quello più importante. L'ambiente era un ambiente sereno e collaborativo da parte degli operai più anziani, anche perché tante volte l'operai anziano è tenuto un pochettino a tenersi per sé i tesori che ha fatto nella sua vita lavorativa. Per quanto riguarda la mia esperienza, la mia esperienza è stata positiva, in quanto noi avevamo dei capi reparto, proprio quelli più a stretto contatto nei capi reparti, quindi per quanto riguarda me il capo reparto, io ero una persona valevole sia dal punto di vista professionale e se uno si faceva, lavorava, faceva il suo, nessuno non obiettava e non ha avuto nessuna esperienza negativa, anche perché io ho sempre cercato di fare, fin dall'inizio, quello che mi veniva detto, di imparare il più possibile e quindi io ho messo tutta la mia buona volontà non ho mai avuto, diciamo, esperienze negative. Poi diciamo che noi avevamo solo quel capo reparto, perché, diciamo, tipo i dirigenti o le persone più in alto, poche volte noi avevamo rapporti con loro, perché noi ci rapportavamo sempre quel capo reparto. Fino al 1990, ottobre, diciamo, era Italsider, qualche mese prima, anche qua circa 5-6 mesi prima, da quello che mi ricordo io, si paventava, appunto, questa privatizzazione, appunto, che da Italsider dovrebbe, appunto, essere trasferita a un'altra società privata. Non si sapeva ancora bene il, cioè, il nome, chi era, però, appunto, se ne parlava parecchio. Poi c'erano quindi tutti questi fermenti, si vedeva che comunque qualcosa c'era, che non, cioè, non era più come prima, si sentivano delle voci, però, cioè, di certezza non c'era nulla, nel senso che poi, praticamente, all'inizio degli anni, cioè, proprio nel 1990, si era proprio capito che arrivavamo proprio a una fase conclusiva di passaggio tra Italsider e una nuova società, che, appunto, non si conosceva ancora il nome. Poi, diciamo, a novembre 1990, siamo stati trasferiti tutti, siamo passati tutti da Italsider sotto questa società Homsav SRL, che, appunto, avrebbe dovuto prendere in liquidazione, diciamo, Italsider. Io, per quello che mi ricordo, diciamo, questa cosa è stata un pochettino traumatica, nel senso che, comunque, quando si passa, ma non tanto dal pubblico, che è quella Italsider, a un privato, anche da quel punto di vista lì, però non si sa mai se poi vengono mantenute, diciamo, tutti i contratti, diciamo, precedenti, le paghe, tutte quelle cose lì. Quindi, da parte mia, anche da parte di tutti gli altri miei colleghi, si aveva sempre un po' paura, anche perché questa società non sapevamo se poi riassorbiva tutti i dipendenti, se ne lasciava qualcuno a casa, come, diciamo, come se poi il lavoro, come, diciamo, avesse continuato, come prima. Cioè, c'erano tante incognite che, purtroppo, pesavano su tutto di noi. Ricordo questi dirigenti, io mi ricordo sempre, volevano che tutti andassimo vestiti bene, cioè che le giacche fossero, la tuta fosse tutta perfetta, nel senso, non potevamo mettere maglie, per dire, d'inverno nei capannoni c'era anche freddo. Dovevamo mettere tutte, la tuta blu, che non si vedessero maglioni rossi. Cioè, quindi sembrava una cosa, diciamo, cercavano tanto l'immagine, diciamo, questo me lo ricordo, mi ricordo anche i dirigenti che spesso passavano nei reparti. Dentro di me pensavo, penso che lo pensassero anche altri miei colleghi, dicevo, però, quando si è una fabbrica, secondo me conta tanto anche il lavoro, cioè vedere il lavoro, come viene svolto, se i pezzi che si facevano venivano fatti bene, in modo, con grande qualità, e questa cosa qua dell'immagine a me è sempre rimasta lì, perché, cioè, non riuscivo a capire il perché, voglio dire, se uno poi anche avesse avuto un maglione rosso o un maglione celeste, però il suo lavoro lo faceva, e questa cosa non riuscivo, non l'ho mai riuscita a capire, poi negli anni l'ho capita, perché, cioè, doveva essere un'immagine, cioè, solo l'immagine doveva essere, niente di più, secondo il mio parere. All'inizio, quando è entrata questa società, sembrava che dovesse proprio rilanciare questi tal sider, sembrava tutto, cioè, una cosa, diciamo, positiva, questo passaggio, però sembrava proprio un lasciare andare questa fabbrica piano piano a morire. Per quello che mi ricordo io, si pensava meno, forse, al lavoro, cioè, nel senso che, oddio, i pezzi dovevano essere fatti, consegnati nei dovuti termini, nei dovuti tempi, però c'era un qualcosa che faceva presagire, diciamo, a un, a un, praticamente, a una chiusura. Logicamente, da quando siamo passati, la quantità del lavoro diminuiva, cioè, non è come prima che facevamo più straordinari quelle cose lì, si faceva lavoro normale, però più o meno, non è che cambiasse tanto, al di là di un, diciamo, di commesse un po' inferiori a quando eravamo in tal sider. Io mi ricordo il punto, il 3 maggio del 93, anzi, per dire la verità, proprio, cioè, il primo maggio del 93 mi viene raccapitato un telegramma, proprio la festa del lavoro, era il primo del 2 maggio, dove mi veniva comunicato la mia messa, diciamo, la collocazione, la sospesa dal mio servizio, in quanto c'era una crisi strutturale dell'azienda e, diciamo, il reparto pieno di commesse di lavoro. Mi ricordo che c'erano sulle macchine ancora parecchi pezzi da finire, c'erano commesse ancora, diciamo, da terminare e sta cosa lì, ma proprio, cioè, è stato proprio un fulmine a Cercerino perché, cioè, non riusciva a capire come mai ti sospendono dal servizio, ti, finite poi le ferie, la cassa integrazione e tutto, avendo parecchio lavoro in casa, in fabbrica, è quello che non, la cosa che proprio mi ha meravigliato. Mi sento di dire che comunque, cioè, è stato tutto un disegno per comunque, per portare poi, per speculare su queste aree, cioè, ormai è palesa la cosa perché è uscita in tutte le salse e quindi, cioè, diciamo che i privati non sono venuti per portare avanti, continuare una produzione, ma quindi, ma per poi portare alla chiusura, c'era un disegno ben preciso, come ormai è emerso in tutte le salse. Diciamo che io, per quanto riguarda le istituzioni e i sindacati, io metto tutti, cioè, nel senso, metto tutto, diciamo, faccio una cosa generale di tutti, io ho avuto un'esperienza negativa con tutti, perché mi sono poi accorto che per tre anni io ho creduto, nel senso che siamo andati, ci hanno portati in prefettura, ci portavano in prefettura, ci portavano praticamente in strada, bloccavamo l'Aurelia, cioè, noi facevamo, cioè, di tutti i colori, in comune, cioè, ogni settimana noi facevamo una riunione, cioè, una riunione, chi facevano delle manifestazioni per Savona, bloccavamo qua, bloccavamo là, però, secondo me, non è servita nulla, perché tanto, era solo, secondo me, una proforma così, perché si doveva fare, ma tutti, secondo me, sapevano già quello che era il nostro destino, e questa è stata, per me, un'esperienza negativa, nel senso che, comunque, io ci ho creduto, comunque, di, diciamo, tra virgolette, combattere un attimino per il mio posto di lavoro, ma anche per altri, perché comunque l'industria avrebbe potuto essere anche un'occasione per altri giovani, per altre persone, e ci ho creduto, però poi ho capito che, comunque, le istituzioni, tutte, diciamo, le istituzioni sia a livello locale, sia a livello anche, poi, proprio palazzi alti, tipo Roma, tipo, e anche, secondo me, anche i sindacati, secondo me, ci hanno un po', sapevano comunque quello che, sapevano già come sarebbe andato, io sono rimasto amareggiato per questa cosa qua, perché, comunque, io tante volte ho partecipato a queste forme di lotta, credendoci, e, difatti, mi sono un pochettino, poi, cioè, un po' risentito di questa cosa qua, non mi è dispiaciuto questa cosa qua, nel senso che uno fa una cosa, ci crede, e poi ti accorgi che, comunque, tutto quello che fai, dietro c'era già un piano ben preciso, che avrebbero potuto, comunque, dircelo, avrebbero detto, su queste aree, tutti, dalle istituzioni locali, ai sindacati, tutti, io li metto tutti, avrebbero potuto dirci, sentite, qua, ormai, abbiamo deciso di farci un palazzo, abbiamo deciso di farci un albero, basta, si chiude, trovatevi un altro lavoro, ma non per tre anni facciamo lotta, andiamo nelle strade, andiamo in prefettura, andiamo sui treni, cioè, a bloccare le stazioni, quelle cose lì, preferivo che, cioè, preferivo, l'avrebbero forse preferito anche altri, che fosse successo questo, invece è successo l'incontrario.